Ciao, sono Adriana di HPA e oggi vi faccio vedere quest'audi Q3 Sportback. Allestimento S-Line Black Edition. Cornici e moda natura nero lucido, pari full LED. Pari posteriori, full LED e frecce dinamiche. Con cambio automatico. Volante appiattito e navigatore con connessione interna. Veniteci a trovare nella nostra sede di Barra Franca. Ciao! I struggle to see... I struggle to see... I struggle to see...